Sala Consilina, ieri marcia silenziosa e fiori rossi per Violetta Sencio e per tutte le donne vittime di violenza. Ballo della Lucania, cittadini e amministratori in campo per la difesa del diritto alla salute, ieri un incontro. Sala Consilina, tutto esaurito per lo spettacolo I fiori del latte con Viaggio Izzo, solidarietà con i volontari di Teniamoci per Mano Onlus. Teggiano, successo per la dodicesima edizione della festa dell'infanzia, promossa dal dottor Luigi Dalvano e da un gruppo di volontari. Calcio, il punto dopo la dodicesima di eccellenza. Buongiorno e bentrovati al nostro telegiornale. Ieri era la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Sala Consilina, una marcia silenziosa con in mano un fiore rosso è stata dedicata alla giovane Violetta Sencio, ennesima vittima di violenza morta lo scorso 4 novembre. In silenzio sotto la pioggia un abbraccio forte e sentito alla madre di Violetta Sencio, la 32enne rimasta vittima dell'incendio della sua abitazione che secondo l'accusa sarebbe stato appiccato dal compagno lo scorso 3 novembre e tantissime persone hanno attraversato le strade di Sala Consilina partendo dal piazzale antistante all'ex tribunale di Sala Consilina fino a piazza Umberto I, fermandosi davanti alla panchina russa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, posta ai piedi del monumento ai caduti, per dire basta proprio alla violenza sulle donne. Anche Sala Consilina ha aderito alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne con un pensiero particolare a Violetta. Oggi, ha sottolineato Rosi Pepe, referente del comitato se non ora quando Vallo di Diano, c'è stato il tempo della silenziosa costernazione piena del vuoto delle donne vittime di violenza maschile. Domani ci sarà il tempo della rumorosa voglia di agire contro questa particolare emergenza sociale perché i femminicidi sono solo la punta di un fenomeno che è una vera e propria sconfitta per tutti. Parole forti da parte di chi da anni è in campo per fermare l'agghiacciante fenomeno che conta ogni anno centinaia e centinaia di vittime innocenti. Alla marcia silenziosa era presente anche la senatrice Felicia Gaudiano del Movimento 5 Stelle che nei giorni scorsi ha presentato un'interrogazione in cui ha parlato della necessità di monitorare la concreta attuazione della Convenzione di Istanbul per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne. La senatrice Gaudiano accompagnata dall'attivista pentastellata Michela Lobosco era tra le centinaia di persone che senza lasciarsi fermare dalla pioggia hanno voluto manifestare in maniera silenziosa e pacifica contro tutte le azioni di violenza e danni di una donna. Immancabile anche la presenza della consulta delle donne amministratrici Vallodidiano Tanagro che tra le prime attività adottate dalla Costituzione sono state proprie iniziative volte alla tutela delle donne vittime di violenza e a sensibilizzare l'intera comunità di riferimento a battersi affinché tali drammatiche tragedie non si verifichino più. Passiamo alla cronaca. Nella serata di ieri, forse a causa del manto stradale viscido per le copiose piogge, un alfa Romeo si è resa protagonista di un sinistro all'ingresso dell'area di servizio di Sala Consilina Nord. Subito sul posto i soccorsi del 118, il 61enne di Rende è stato trasferito all'ospedale di Polla mentre per la moglie, 69enne di San Degilio del Monte Albino è stato necessario il trasferimento all'ospedale di Eboli. Entrambi non sarebbero in pericolo di vita. Andiamo avanti. Erano in molti presenti all'incontro svoltosi a Vallo della Lucania presso l'Aula Consiliare del Comune dove sindaci e cittadini si sono riuniti per sostenere le comunità del Golfo di Policastro e del Vallo di Diano in vista della possibile chiusura dei punti nascite per difendere la struttura di emergenza cardiologica del San Luca di Vallo della Lucania. Tante presenze presso Palazzo della Cultura, Vallo della Lucania dove cittadini, politici e parlamentari del Comune Vallese e dei paesi limitrofi del territorio si sono riuniti per sostenere le comunità del Golfo di Policastro e del Vallo di Diano che vedranno la chiusura dei punti nascita dei rispettivi ospedali e per la difesa della struttura di emergenza cardiologica dell'ospedale di Vallo della Lucania. Non solo a rischio ai punti nascita di Pulla e Sapri ma anche quello di Vallo della Lucania che tra un anno potrebbe patire la stessa sorte e non solo per i punti nascita. Infatti il nuovo piano di riorganizzazione della rete cardiologica voluto dalla regione Campania e dall'Asala Salerno penalizzerebbe alcune aree del Cilento che in caso di emergenze farebbero riferimento all'ospedale di Eboli e non più a quello di Vallo della Lucania nonostante i tempi per raggiungerlo siano più brevi. E la morte civile di un territorio se ci tolgono i punti nascita ci rimangono solo i cimiteri ha così commentato il sindaco di Castelnuovo Cilento Eros Lamaida parole dure ma piene di significato che rivendicano il diritto alla salute. Non sono mancati riferimenti al governatore della Campania Vincenzo De Luca e di quanto stia facendo per la situazione attuale che si sta vivendo nel Cilento. E rimaniamo sulla sanità tra i relatori di un convegno svoltosi ad Auletta venerdì sere organizzato dalla Lega Locale e del Movimento 5 Stelle. Il senatore Franco Castiello ha ribadito in merito alla vicenda dei punti nascita l'importante ruolo che ha la Regione. Ha sottolineato come misure di disattivazione dei servizi rappresenti una ulteriore spinta allo spopolamento delle aree interne ed è quindi una cosa che occorre evitare. Io vedo addirittura ad arrivo una soluzione positiva di tutta questa vicenda basata su che cosa? Su un dato giuridico solido e indiscutibile. Il parere negativo espresso dal comitato esistente presso il Ministero della Salute non è vingolante perché l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce l'autonomia amministrativa e gestionale nella materia della sanità alla Regione e quindi anziché chiudere i punti nascita di Polla e di Sapri lasciarli aperti, ma attenzione, con adeguamenti strutturali e organizzativi perché l'obiettivo comune allo Stato e alla Regione non può essere che quello di garantire le condizioni di sicurezza delle partorienti e dei nascitori. Devo solamente fare una precisazione. Quando il Governatore De Luca dice che si tratta di una cinquantina di parti, con cinquantina di parti i ginecologi perdono la manualità, questo non è statisticamente esatto. Può essere valido così, come devo dire, esasperando l'ipotesi, ma in concretezza non è così. perché sia Polla che Sapri che Vallo della Lucania sono su una media di 300 parti l'anno, quindi quasi uno al giorno, come si fa a dire il ginecologo perde la manualità con un parto al giorno. E poi del resto le referenze che arrivano dal territorio ci dicono che queste strutture lavorano bene, funzionano bene, dobbiamo avere fiducia e questi punti di nascita devono rimanere sul nostro territorio. Ecco Senatore, ricordiamo che forse non sono i numeri che fanno la differenza, ma anche la presenza di questi presidi in territori che sono distanti dai grandi centri. Questo è un punto molto molto importante. Non si può andare avanti così senza un'attenzione particolare alle aree interne. Queste misure di disattivazione, soprattutto per quanto riguarda Polla, dei punti nascita, è un'ulteriore spinta all'abbandono, allo spopolamento, alla desertificazione. E' una cosa che noi dobbiamo impedire nell'interesse della sopravvivenza demografica e quindi ontologica proprio del mezzogiorno. Una nuova operazione della Guardia di Finanza di Salerno ha individuato un'illecita appropriazione di corrente elettrica da parte di esercizi commerciali del Salernitano. Le attività di controllo sono state effettuate nei comuni di Ponte Cagnano e Monte Corvino Rovella. L'hanno portato alla denuncia dei titolari degli esercizi commerciali. La Guardia di Finanza di Salerno, nel quadro dell'ordinaria attività di controllo economico del territorio, hanno scoperto tre esercizi commerciali che si approvvigionavano di corrente elettrica attraverso allacci abusivi alla rete pubblica. Tre le persone denunciate. I finanzieri, con la collaborazione dei tecnici della società di gestione della rete, hanno riscontrato la flagranza dei furti di energia elettrica realizzati attraverso sofisticati di sistemi di bypass che consentivano di utilizzare l'elettricità senza che ne fosse rilevato il consumo dai relativi contatori. A Ponte Cagnano, nei guai, è finito il titolare di un ristorante che aveva bypassato frigoriferi, cucine, forno e lavapiatti, ovvero elettrodomestici più dispendiosi dal punto di vista del consumo di elettricità, allacciati direttamente alla rete pubblica con un interruttore termomagnetico abusivo pronto ad essere azionato in caso di controllo. A Monte Corvino, invece, i titolari di due bar erano ricorsi al classico sistema delle calamite posizionate sui contatori che generano un errore nella misurazione dei consumi. Il mancato introito stimato per la società di gestione della rete è di oltre 160.000 euro negli ultimi due anni. Le formiche hanno letteralmente invaso le scuole dell'infanzia ed elementari di San Marco di Teggiano. Per questo motivo il sindaco Michele Di Candia ha ordinato la chiusura delle scuole per la giornata di oggi necessaria a disinfestare i locali e garantire la sicurezza e l'igiene dei piccoli alla ripresa delle attività didattiche. Rimaniamo sulla scuola. Da questa mattina è stata ripresa la regolare attività nelle scuole di Sanza. Nei giorni scorsi la caduta di calcinacci aveva reso necessario lo stop alle lezioni. Da questa mattina la scuola media di piazza San Francesco a Sanza ospita le classi delle scuole elementari dopo che nei giorni scorsi il distacco di calcinacci nel latro del plesso scolastico aveva imposto lo stop temporaneo alle lezioni a tutela dell'incolumità dei bambini. E così l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Vittorio Esposito aveva dovuto individuare un nuovo spazio per consentire ai piccoli alunni di riprendere le lezioni. Il grande senso di comunità ha consentito di ridurre notevolmente i tempi per il trasferimento delle classi nelle nuove aule. Ed è proprio il grande spirito collaborativo e di unità dimostrato in questi giorni di emergenza da parte di cittadini e associazioni che ha colpito particolarmente il vice sindaco Antonio Lettieri che nell'annunciare la ripresa delle attività scolastiche per gli studenti della scuola media, scuole elementari, infanzia e nido ha voluto ringraziare quanti hanno messo a disposizione tempo ed energie per realizzare in tempi celeri l'attività di trasferimento. Così, nei giorni di giovedì, venerdì e sabato, il lavoro di amministratori e dipendenti comunali, dipendenti della comunità montana, collaboratori scolastici, maestri delle scuole elementari e materne, ragazzi della cooperativa Terzo Millennium, operatrici del nido, i ragazzi del servizio civile, alcuni ragazzi extracomunitari del centro di permanenza, e le relative cooperative, insieme all'importante contributo di mamme volenterose, hanno consentito la ripresa regolare delle attività scolastiche. Grazie al lavoro instancabile di tanti volontari, dichiara il vice sindaco Lettieri, si è riuscito in tempi brevissimi ad effettuare il trasloco di tutto il necessario per far sì che da questa mattina si potessero riprendere le attività scolastiche. Un grazie di cuore a tutti continua per aver collaborato al trasferimento della scuola in tempi record, un esempio di come lo spirito di comunità aiuta a superare le difficoltà. La nuova sistemazione ha previsto la riorganizzazione degli spazi con le cinque classi delle elementari insieme alla prima media ubicate al primo piano dell'edificio scuola media, seconda e terza media insieme alla scuola dell'infanzia al piano strada dello stesso istituto, mentre il nido è stato collocato al piano terra a livello villa comunale dove è stato anche posto l'ingresso per tutte le classi. Si è aperta tra sorrisi, divertimento ma anche riflessione e solidarietà la prima sferata della stagione teatrale 2018-2019 al teatro Mario Scarpetta di Sala Consilina. Con lo spettacolo I fiori del latte, Biagio Izzo ha raccontato con ironia ma anche con speranza l'inquinamento ambientale. Tra i protagonisti anche i volontari della Teniamoci per mano Ollus che con la clown terapia regalano sorrisi ai degenti negli ospedali. Applausi scroscianti per lo spettacolo di apertura della nuova stagione teatrale al teatro Mario Scarpetta di Sala Consilina, promossa dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Cavallone e curata dal teatro pubblico Campano in una prima serata che ha dimostrato come il teatro possa essere straordinario veicolo per trasmettere messaggi di grande valore educativo e morale. Parte alla grande la stagione 2018-2019 con lo spettacolo I fiori del latte di Edoardo Tartaglia con protagonista Biagio Izzo che non ha deluso le aspettative riuscendo a strappare grandi risate al pubblico che ha affollato la platea del teatro Scarpetta gremito in ogni posto ma anche a sollecitare riflessioni importanti su un tema particolarmente sentito come l'inquinamento ambientale e la terra dei fuochi. Il teatro, ha dichiarato nel finale Biagio Izzo, non può risolvere i problemi ma può sottolinearli. La speranza, ha spiegato, è che di quanto è stato raccontato e detto durante la rappresentazione sia rimasto anche un solo piccolo messaggio. Nel salutare il pubblico Biagio Izzo non ha deluso le sue piccole fan concedendo autografi e foto e ricevendo in dono un disegno che ha ammirato con occhi grati. Ma la serata è stata anche dedicata alla solidarietà. Presenti infatti alla prima della stagione teatrale i volontari dell'associazione Teniamoci per Mano Onlus nata nel 2010 a Napoli per la pratica della clown terapia portando sorrisi e divertimento ai degenti degli ospedali italiani e in strutture come case famiglie o case di cura per anziani colorando di allegria in particolare i reparti di pediatria e di oncologia ma anche altri reparti stando così instancabilmente vicini a quanti soffrono regalando quel piccolo ma significativo sorriso che a causa della malattia e della sofferenza è venuto meno. Ci pensano quindi i volontari in giro in tutta Italia a restituire i sorrisi ai degenti delle strutture ospedaliere e sanitarie italiane avvalendosi dell'unico sostegno nelle donazioni che arrivano dal cuore delle persone Donazioni che l'associazione Teniamoci per Mano Onlus utilizza anche per organizzare corsi di clown terapia della durata di due giorni di full immersion e cento ore di tirocinio formativo Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità Bentornati in studio si è conclusa tra le voci festanti dei bambini e il divertimento dei grandi la dodicesima edizione della festa dell'infanzia svoltasi lo scorso fine settimana a Teggiano promossa dal dottor Luigi D'Alvano per sensibilizzare verso i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza La festa dell'infanzia 2018 ancora una volta ha regalato momenti di sano divertimento ma anche intensi attimi di riflessione La due giorni è organizzata e fortemente voluta dal dottore pediatra Luigi D'Alvano che per il suo grande amore verso i bambini è in campo con iniziative di solidarietà e socialità per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza come sancito dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 20 novembre 1989 Da 12 anni a novembre il Vallo di Diano ed in particolare Teggiano scende in campo per i bambini organizzando una due giorni di attività ludiche e laboratoriali ma anche di incontri e spettacoli Bilancio più che positivo per questa dodicesima edizione che ha visto in campo per l'organizzazione tanti volontari che dedicano il loro tempo e le proprie energie all'iniziativa come sottolineato dal dottore Dalvano Siamo molto molto contenti in quanto abbiamo fatto due giornate un po' faticose ma molto molto intense, dense anche di soddisfazione il pubblico è rimasto molto molto contento e anche noi La nostra festa è un'occasione di incontro che è una festa, un'occasione gioiosa però noi non dimentichiamo mai che nel mondo magari c'è ancora molta difficoltà è un godimento che è ineguale in tutto il mondo l'Africa soffre ancora i diritti fondamentali, cioè quelli del ricongiungimento familiare quello anche del gioco, dell'istruzione non vengono goduti in tutto il mondo noi abbiamo avanti un progetto che vuole dare aiuto e ascolto a queste persone in Africa nel Togo, nella parte subsahariana più sfortunata e più povera dell'Africa La festa dell'infanzia costa poco in termini economici ma costa abbastanza fatica e molto molto impegno però noi essendo dei volontari la facciamo con molta molta passione che è molta volontà e dobbiamo dire con molta felicità pomeriggio intenso ieri presso il centro parrocchiale Pier Giorgio Frassati di Prato Pedillo dove dopo l'intervista al vescovo della diocesi di Tegiano Policastro Monsignor Antonio De Luca da parte dei bambini c'è stato un momento di riflessione sulle attività di volontariato organizzate nel mondo a favore dei piccoli dell'Africa a seguire un divertentissimo spettacolo teatrale messo in scena dai volontari della festa dell'infanzia e nel finale la premiazione del concorso di disegno Cambiare e Crescere la festa si è conclusa con un buffet dei prodotti tipici della dieta mediterranea Questa mattina presso l'aula consigliare del comune di Sala Consilina c'è stata la conferenza stampa di presentazione della 23esima edizione di Teatro in Sala e la rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Ragazzi di San Rocco preseduta da Franco Freda è stato rivelato il cartellone dei 12 appuntamenti ricco anche quest'anno con delle novità non solo prosa con riferimenti ai grandi autori del teatro ma anche musica e danza nei vari appuntamenti e poi riguardo all'organizzazione sono state confermate le partnership dello scorso anno a cui si aggiungono per questa edizione le scuole i ragazzi del Pomponio Leto di Teggiano e del Pisacane di Padula con l'alternanza scuola lavoro aiuteranno nella grafica, nella realizzazione dei premi e nella gestione delle serate l'associazione organizzatrice anche quest'anno può contare sul consolidato appoggio dell'amministrazione comunale si parte sabato 8 dicembre con una serata tutta valdianese prima la musica di un gruppo storico del pop Nuova Dimensione poi la presentazione del libro quest'anno non scendo di casa surace con i protagonisti la serata conclusiva con il gran galà di teatro in sale le premiazioni delle compagnie in concorso è in programma domenica 7 aprile i vari appuntamenti anche per questa edizione saranno arricchiti dalla partecipazione di talenti valdianesi che si sono distinti e affermati a livello nazionale e internazionale ma ascoltiamo le interviste realizzate oggi quest'anno le novità sono tantissime abbiamo il piacere di avere come nostri partner anche le scuole del Valoridiano il Pomponio Leto di Teggiano e il Carlo Pisacane di Padula abbiamo bisogno appunto dei giovani perché loro saranno i nuovi portatori della cultura in futuro poi abbiamo i nostri collaboratori che sono chiaramente l'amministrazione comunale e la banca di Sassano nonché la fondazione che sono comunque ormai i nostri partner affezionati per quanto riguarda invece l'aspetto spettacolare quest'anno oltre alle compagnie teatrali in concorso come ci sono sempre stati ci saranno anche impettacoli di musica con il gruppo degli Arpi Vigianessi e poi abbiamo anche una serata di spettacolo di danza di danza contemporanea inizia il tutto l'8 dicembre con l'apertura della rassegna e in questa serata saranno i nostri ospiti i ragazzi di Casa Surace che presenteranno il loro nuovo libro e sarà un momento di divertimento insieme e poi ci sarà un altro momento legato alla musica con un vecchio gruppo di Sala Consilina Nuova Dimensione che per l'occasione si riunisce per presentarci dei brani Da 23 anni le amministrazioni che si sono succedute hanno creduto in questa rassegna che ha dato i suoi frutti 4 anni fa fu volontà di questa amministrazione nella persona del sindaco Francesco Cavallone e inserire il teatro nell'ambito della delega proprio specifica alla cultura era doveroso quindi sostenere anche per la stagione 2018-2019 la rassegna la rassegna di teatro in sala quest'anno si arricchisce di un nuovo tassello perché già dopo la rassegna che con successo si era avuta nell'anno precedente si era capito che qualcosa andava migliorato e perfezionato importantissimo l'ausilio dei media partners per i quali io ringrazio personalmente anche l'immittente Uno TV necessitava della vicinanza dei giovani alla rassegna e quest'anno quindi la collaborazione con le scuole sarà credo un altro tassello importante che si aggiungerà a teatro in sala poi tante novità nel cartellone soprattutto la danza, la musica l'intesa nella danza teatro credo che saranno degli aspetti nuovi che potranno permettere al pubblico di teatro in sala di avere un arricchimento confidiamo di intercettare come per la stagione professionistica anche pubblico da fuori regione dalla Valdagri ma perché no anche dall'Alto Tirino Cosentino come è stato per la prima con Biagio Izzo Passiamo ora al calcio nel campionato di eccellenza Girone B va in archivio la dodicesima giornata a lungo in betta l'Audax Cervinara in coda Tonfo del Baldiano in casa della Palmese nel campionato di eccellenza Girone B prova all'allungo l'Audax Cervinara che batte 2 a 1 le clanese e si porta a più 3 dalla prima inseguitrice il Santo Maso che così come la polisportiva Santa Maria non va oltre il pari interno rispettivamente contro Sant'Agnello e Solofra risale la classifica l'Agropoli che grazie ad un parentorio 3 a 0 al Guariglia contro la Scafatesa ritrova Morale e aggancia al quarto posto il Costa da Marfi che però dovrà recuperare la sfida giocata ieri di pomeriggio sul campo del Faiano in quanto la gara è stata sospesa definitivamente al trentesimo del secondo tempo sullo 0 a 0 per il forte maltempo che si è abbattuto sul 23 giugno 1978 di Ponte Cagnano importanti vittorie esterne per Battipagliese Virtus Avellino le Zebrette regolano con un gol di Iommazzo il Castella San Giorgio mentre Cambione ed Andrea regalano il successo all'inglese degli Irpini sul campo del San Vito Positano che resta all'ultimo posto a meno uno dal Valdiano i Blaurana di Mister Nastri rimediano una sonora sconfitta sul campo della Palmese che vince grazie ai gol degli ex Sorriso Cibele e Siciliano Ancora calcio sempre più incertezza nel campionato di promozione Girone D facciamo il punto nel prossimo servizio Nel campionato di promozione Girone D il Giffoni Secasali grazie al successo facile contro la Poseidon torna in vetta la classifica Giallorossi di nuovo primi grazie al contemporaneo pareggio dell'Angri in casa contro il Piccola e del Buccino Volcei che al Volpe va sotto contro il Centro Storico gol di Paciello su calcio di rigore e poi pareggia sempre dagli 11 metri con Santese Angri e Buccino ora a meno due dalla vetta insieme all'Alfa Terna che vince 3 a 1 a Campagna e scavalcate dalla Calpazio che va a 24 punti i ragazzi di Mister Voza ottengono tre punti grazie al successo interno contro la Temeraria al termine di una gara ricca di emozioni e di gol conclusa con il punteggio di 5 a 3 Scala in modo prepotente la classifica anche la San Mauro che vince il derby 3 a 1 sul campo dell'Acquavella e si porta a meno 4 dal primo posto un po' più staccate Sporting Ponte Cagnano e Salernum che pareggiano 1 a 1 in coda detto delle sconfitte di Campagna Poseidon Acquavella e Temeraria finisce a reti bianche lo scontro diretto tra Rocchese e Giffonese con quest'ultima che mantiene i 4 punti di vantaggio dalla zona play out con lo sport termina il nostro telegiornale vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata Grazie a tutti